Ormai è un dato di fatto. Entro la fine di ottobre il chiosco del porto di Pesaro Piada Marina verrà rimosso. Ora però nelle stanze del municipio si lavora alla soluzione più indolore per tutelare l'attività imprenditoriale dei gestori del locale conciliandole con quelle disposizioni demaniali che a settembre hanno imposto la cessazione dell'attività per mancanza di quelle concessioni edilizie che regolamentino Piada Marina ad una struttura fissa sull'area portuale. Questa mattina si è riunita la commissione attività economiche convocata dal vicepresidente della suddetta commissione Francesco Totaro alla presenza di dirigenti comunali e dell'assessore Francesca Frenquellucci. Ed è emerso che per tanto tempo c'è stato un rimbalzo di competenze tra l'autorità portuale e la capitaneria di Porto e il comune. Ho visto tanti buoni propositi oggi in commissione sia da parte dell'opposizione che dalla maggioranza. Ieri già c'è stato un primo contatto fra l'amministrazione e l'autorità portuale che sta cercando una soluzione e speriamo che avvenga il prima possibile. Si lavora dunque per trovare le condizioni più morbide e rispettose dell'attività imprenditoriale in vista della prossima riapertura di primavera dove Piada Marina ha acceso un riflettore d'approfondimento anche su altre attività nell'area portuale. Si pensa alla realizzazione di un bando comunale ad hoc e si tenterà la non facile strada di ripristino della collocazione tenuta in questi 16 anni. L'intenzione dell'amministrazione è ripristinare il tutto e mi auguro che non sia più un qualcosa di provvisorio ma un qualcosa di stabile per dare anche sicurezza a questi giovani imprenditori.